La cronoscalata del Santuario 2018, decima e conclusiva tappa del campionato italiano velocità salita autostoriche by AC Sport, ha finalmente emesso i suoi verdetti. Nella magnifica cornice di Cefalù, perla del Tirreno e patrimonio UNESCO, al cospetto di un tripudio di folla festante assiepata sui 7,950 km del tracciato, numerosi titoli italiani e siciliani hanno trovato il nuovo padrone come pronosticato già alla vigilia. La pioggia ha comunque scompigliato i piani dei piloti in gara 2, dichiarata bagnata dal direttore della manifestazione. Cefalù, comune al fianco degli organizzatori del comitato I Normanni e dell'Automobile Club Palermo, ha confermato la tradizionale vocazione alle corse in salita e per i protagonisti del tricolore ha ancora una volta aperto i propri tesori UNESCO. Ad aggiudicarsi l'ideale vittoria assoluta al culmine di un weekend a tutto motore è stato forse un po' a sorpresa, ma con pieno merito il rallyista cefaludese Angelo Lombardo, velocissimo e concentrato al volante della Porsche 911 SC di terzo raggruppamento, preparata dal team Guagliardo. Il portacolori della Highland Motorsport ha certo approfittato della poca fortuna di cui ha goduto in Sicilia il milanese Walter Marelli, leader dopo la prima manche cronometrata, ma poi costretto al ritiro in gara 2 a causa di una toccata che ha tolto dai giochi la sua Osella PA 990 BMW di Bologna squadra corse sotto la pioggia. Marelli ha comunque festeggiato in Sicilia il titolo di campione italiano di quarto raggruppamento ed in classe JR BC 2000. Una vittoria inaspettata perché comunque mi reputo ancora un neofita perché appena vengo da una stagione nel mondo realistico, tra l'altro tra le moderne, quindi da una decina di giorni che ho provato. Il team Guagliardo mi ha messo a disposizione una Porsche 911 e ho preso subito confidenza con la macchina. Su un podio generale a favore del terzo raggruppamento, seconda posizione per il rallyista idolo di casa Piero Vazzana, presidente del Comitato I Normanni, al fiere della Real Cefalù, alla guida della Porsche 911 SC della SPM di terzo raggruppamento, si è inserito a sua volta davanti al sempre brillante messinese Salvatore Caristi, terzo in ordine assoluto con la Fiat 128 Giannini schierata dalle team Fenix. Fin sotto al podio di terzo raggruppamento si è arrampicato l'esperto trapanese Vincenzo Cerse sulla Fiat 127. A dire la verità non ci credevo neanche io perché c'erano previsioni mete avverse, tutta una serie di situazioni che si presentavano un pochettino complicate, tanto da organizzatore quanto da concorrente, però è andato tutto per il verso giusto. Purtroppo il numero dei concorrenti è stato esiguo perché il tempo ha spaventato tutti. Comunque Cefalù sa sempre offrire il meglio di sé in questi frangenti. Consentite, dovrei ringraziare un po' tutti quelli che ci hanno collaborato a cominciare dalle forze dell'ordine, un po' tutti perché senza il loro aiuto, perché noi ti facciamo tutto cercando di farlo funzionare al meglio, però l'inghippo c'è sempre quindi tu devi cercare di coprire tutto e sono stati tutti vicini e devo ringraziarli tutti. Al culmine di un weekend agonistico difficile, su un percorso per lui del tutto inedito, il reggiano Giuseppe Gallusi è riuscito a darpionare il titolo italiano nel terzo raggruppamento, fermando, al volante della Porsche 911 SC, le velleità siciliane del milanese Andrea Fiume, costretto sulle difensive nell'abitacolo della Osella PA89 BMW della Racing Club 19 non perfettamente a suo agio, su un percorso assai tecnico e bagnato dalla pioggia in gara 2. Gallusi si è portato nella sua Emilia anche la loro tricolore nella classe H2i GTS più 2500, mentre Fiume si è dovuto accontentare del titolo italiano nella classe JRBC 2000. E' stata una stagione bellissima, molto dura, alla fine ce l'abbiamo fatta qui in Sicilia, bellissima gara e visto che è anche un momento di bilanci vorrei ringraziare Galetti Silvano e Varini Alberto che mi hanno sempre assistito, è una dedica a Lele, ad Ala e alla mia famiglia, soprattutto Mario e Giovanni che mi hanno consentito di poter essere qui e vincerlo ed è una vittoria di tutti noi. Questo campionato è stato, se vogliamo, combattuto, poi si sono cambiate un po' le varie gare con il punteggio pieno, le gare con doppia manche, per cui il programma è stato un po' complicato, però è stato divertentissimo correre con un avversario come Gallusi che ci siamo sempre aiutati come due amici, poi giù la visiera, pronti via e si combatteva, però è stato uno dei campionati in cui mi sono divertito di più e poi onore al vincitore insomma. Sempre nell'ambito del terzo raggruppamento il cosentino Aldo Pezzullo ha legittimato in Sicilia la vittoria nelle tricolore di classe JR BC 1003, al volante della bella e rara Lola con motore dall'Ara TS90 della Bologna Squadra Corsa. Insieme alla Sila la considero il non plus ultra delle salite e delle gare in salita, molto tecnica, bellissima da fare. Peccato per il fondo un pochettino scivoloso, ma se no molto bella. Alla crono scalata del santuario il successo nel secondo raggruppamento con quarto posto nella generale è andato con merito al cefaludese Mauro Lombardo Senior, papà del vincitore Angelo, il quale ha piazzato la sua Porsche 911 RS davanti all'esperto pistarde di casa Giovanni Serio, alfiere a Cefalù della scuderia del Portello su Alfa Romeo Giulia GT AM 1750. Nel primo raggruppamento ancora bella vittoria per un altro driver madonita, il giovane collesanese Pierluigi Fullone su BMW 2002 TI per i colori della Festina Lente, a sua volta quinto assoluto nell'ideale classifica generale. Abile a precedere dopo una bella sfida la vettura gemella del palermitano Vittorio Cassata della San Bim Motorsport. Nel quarto raggruppamento un altro cefaludese di lungo corso sugli scudi, Santino Ilardo, in trionfo con la Peugeot 205 Rally che ha chiuso davanti al catanese Sebastiano Fisichella su Lucchini SN87 Alfa Romeo. Il siracusano Camillo Centamore ha infine svettato nel quinto raggruppamento, categoria riservata alle monoposto alle volante della Corsini F Junior, iscritta a Cefalù nei colori della scuderia Aspas. Tra gli altri vincitori tricolori di classe che hanno concretizzato il risultato stagionale a Gbilman, il catanese Giacomo Barone, vincitore con la Fiat 128 Giannini, portacolori scuderia Etna nella classe TC 1150 del secondo raggruppamento, e il nisseno Francesco Branciforti, il quale si è visto confermare a Cefalù, dove ha corso con la Porsche 911 SC il titolo già precedentemente prenotato nella classe GT 1300, e il nisseno Francesco Branciforti, il quale si è visto confermare a Cefalù, dove ha corso con la Porsche 911 SC il titolo già precedentemente prenotato nella classe GT 1300.